Musica Potrei iniziare con il dire faccio questo video per parlarvi del cappelletto di Gucci o anche potrei dire stiamo facendo questo video per parlarvi del cappelletto di Gucci ma sarei un pazzo perché sto già facendo un video che voglio dire che faccio questo video e perché devo parlare al plurale sto da solo, sto riprendendo da solo sto montando da solo fatemi parlare singolare almeno una volta nella vita e invece oggi vi parlo del cappelletto di Gucci questo cappello che nasconde tanti misteri questo cappello che ha fatto venire alla luce il mio vero nome tanta gente era convinta io mi chiamassi Cicalone di cognome questo cappello che tutti mi hanno detto te lo sei fatto adesso perché andava de moda l'anno scorso e io invece vi dimostrerò dati alla mano vista anche la ricevuta che vi ho pubblicato su Instagram chi non l'ha vista mi deve seguire sul mio account Instagram che è Cicalone Simone che comparirà qui in alto da qualche parte detto questo parliamo del cappelletto di Gucci se non ve ne frega una mazza del cappelletto di Gucci ragazzi non lo guardate sto video perché il tema è proprio il cappelletto di Gucci scuola di botte siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti se tu vuoi vincere colpisci il sotto non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto Cicalone ti insegna i pugni molto utili ma se fai il prepotente diventano inutili se tu sei ciccione noi ti aiutiamo da oggi basta monnezza e segui un piano ora di va era il lontano 2008 un anno in cui qualcuno di voi nemmeno era nato altri avevano talmente pochi peli sul pub che non bastavano nemmeno per i puffi e allora che è successo nel lontano 2008? viene la mia ragazza e mi fa oh, a Cicalone, accompagnami a comprare la borsa di Gucci mamma mia, mi si aperte il cuore dove ti devo accompagnare? a Via Condotti io, a mia ragazza, a dicembre a Via Condotti a comprassi la borsa di Gucci che vuoi che ti la regalo io per Natale? no, per Natale mi devi regalare a Vuittone intanto Gucci mi la compro da sola coi sordi che mi hai dato te praticamente è stata una giornata bellissima perché non mi sembrava vero andavamo a Via Condotti l'ultima volta ero stato a Via Condotti ero ragazzino praticamente se siamo regati sta Via Condotti a dicembre, regà, a Via Condotti coi che ce vai? i mezzi pubblici ma che sei a dire? dobbiamo far vedere che siamo reganti avemo fatto lavare la macchina e siamo andati a Via Condotti che la macchina lavata parcheggiata male messa peggio ma lucidata per bene una volta andati a Via Condotti praticamente ci siamo ritrovati per passeggiare per questa via ovvio che Via Condotti per chi non è di Roma è la via chiamiamola della moda del lusso una traversa di Via del Corso bella ampia che porta a Piazza di Spagna lì dove c'è la mitica scalinata vabbè ma a voi non ve ne frega niente che ve sto a raccontare la mappa di Roma poi giri a destra vai de qua poi giri a sinistra vai via del Babuino via del Babuino per esempio è fortemente sconsigliata perché già dal nome capite l'assonanza no? una volta a Via Condotti passeggiavamo tutti belli tranquilli incrociamo due uno grosso uno piccoletto sti due guardano a mia ragazza e dicono una cosa che non mi è piaciuta a quel punto io ve giro e gli faccio che hai detto quello più grosso più spavardo me torna indietro e me fa ho detto sta cosa io me guardo e gli faccio guardia cornuto guardia quello praticamente me dà in destra un bocca ho sputato ma anche il sangue mi ha fatto uscire sinistro destro o manno per terra bagno di sangue gli ho frantumato le mucose e gli app ho schizzato pure amico suo me so schizzato tutto a un certo punto ci avevo praticamente tutto sporco tutto macchiato e me so detto certo che mo' è andato da cuccio così conciato me pare brutto per fortuna c'è stato al negozio lì che veneva le magliette gli faccio la mia ragazza scusami un attimo compro sta maglietta ma la cambio e ma la metto mentre mi cambiavo quello me guarda e mi fa mazze signore lei con st'età c'ha ancora un discreto fisico era il 2008 e gli faccio beh mi mantengo in forma ma che fa il pugilato è che non si vede mi sono messo in guardia sono stato un po' all'internegozio a fargli due tre mosse quello mi ha fatto lo sconto sulla maglietta e me ne sono nato il problema qual era è che sono arrivato da cuccio con una maglietta appena comprata quello di cuccio tale benigni ma guarda strano era toscano questo no o la signore o che la vuole lei faccio guardi siamo venuti per una borsa per la mia ragazza ho solo la borsa comprate lei con sta maglietta economica a che mi sono detto come la borsa faccio scusi ma la borsa è una cosa importante e lei non sa comprare nulla per lei una bella maglietta guardi che brutta maglietta che c'ha e mi tornò in mente che avevo visto il cappelletto di cuccio qualche anno prima dove avevo visto questo cappelletto di cuccio che non era ancora di moda in giro cioè si qualcuno se lo comprava ma c'erano i pischelli con sto cappelletto con vittone cuccio che andavano in giro pure i ragazzini di 5 anni ma c'hanno sti brand poi tutti fake no mi ricordavo avevo visto un documentario di un pescatore giapponese di tonni uno che lavorava i tonni praticamente li pescava e poi li lavorava e tagliava che lavorava con sto cappelletto qua ridentico mentre tagliava i tonni perciò sangue cose e mi son detto ma se sto cappelletto resiste al sangue dei tonni che schizzano che questo li squarta li prepara e tutto quanto può resistere per esempio a me che mi è successo un evento del genere sinistro e destra l'ho sfornato tutto sangue ho detto guardi forse mi ha convinto ce l'avete i cappelletti di cuccio oh come non abbiamo un cappelletto di cuccio mi fa questo e allora faccio una cosa mettere il cappelletto di cuccio insieme alla borsa adesso io lo prendo me lo porta me lo fa vedere lo tocca ammazza bella consistenza bello tosto sto cappelletto senta io lo prendo sto cappelletto e mica là si può fare così facile che lei prende il cappelletto mi deve dare nome e cognome faccio nome dobbiamo cappelletto nome e cognome eh sì e devo fare la fattura la ricevuta lei diventa nostro cliente adesso con il cappelletto fatto che vuol dire poi devo venire per forza a comprare roba qui da cuccio eppure mi sta lontano da casa no però intanto la registramo questo parlava mezzo toscano mezzo romano e mezzo giociaro secondo me sto benigni era pure mezzo farlocco era bassetto un po' stempiato si muoveva tutto era simpatico sembrava un attore secondo me era il benigni vero che l'avano messo in negozio ma secondo quei benigni tra un firma e un altro che sta che fa perché poi cuccio e fiorentino sono tutti amici che poi cuccio l'ha fatta ammazzare la moglie non so se sapete la storia un giorno dovremo fare un video sulla storia di cuccio niente sto cuccio cucci praticamente aveva assunto benigni per farmi servire a me in pratica prima di morire prima di morire ha detto oh cicalone prima o poi verrà il negozio se comprerà il cappello assumiamo benigni benigni ha detto tra un firma e un altro ci vado speriamo che capita a cavallo dei firma che esce nelle sale cinematografiche così vedo una mano a natale perché era dicembre nulla gli do tutti i dati mi fa sta fattura bella grossa adesso ci faccio anche un piacere mi fa me l'ha piegata e me l'ha messa in un bellissimo portafatture di cuccio tutto griffato carino lucido io a quel punto ho detto oh grazie mi piace me lo sono preso e me lo sono messo in tasca siccome il cappelletto del 2008 pare nuovo tante volte quando lo uso la sera per le live agentate se fate il cappelletto nuovo no regà c'ha 12 anni sto cappelletto usandolo anche spesso non si è mai rovinato lavandolo sistemandolo è rimasto intatto allora uno dice certo hai speso 135 euro ma ne costa 250 e però è rimasto tutto bello nuovo intatto i più i detrattori gli scureggioni ah citalo quel cappelletto è falso io ho preso ho pubblicato questa fattura che avevo il caso ha voluto e l'ho buttata di recente questa fattura fisicamente però ho detto nel dubbio siccome l'avevo conservata che era carina e tutto quanto io faccio una foto se qualcuno rompe le palle per dire c'ha il cappelletto farso perché ormai va de moda che te compri il marsupio farso il cappelletto farso il zaino farso ho visto un dinosauro falso era un cane travestito da dinosauro io ho detto ma se vede che è un cane grosso non è un dinosauro no è un dinosauro te lo volevo cedere perciò da questo punto di vista ho preferito mantenere la trasparenza verso i miei iscritti coloro che mi seguono perché se voi me vedete con cappelletto de gucci ed è falso come potrete credere a me in futuro di tutte le cose che vi racconto vi dico questo prodotto è buono no quello è farso Cicalone ha detto di fare questa cosa no è tutto farso perché col cappelletto de guccio farso automaticamente diventi di un falso fatto sa che quel giorno noi siamo usciti tutti contenti da questo negozio di guccio con il cappelletto e a borsa sotto braccio la mia ragazza tutta contenta fa non vedi io c'ho la borsa de guccio te c'ho il cappelletto de guccio c'hai pure la maglietta nuova finalmente qualcosa di creativo tutti ci guardavano tutti non vedi quello un fusto col cappelletto de guccio e da lì ho lanciato la moda del cappelletto de guccio tutti i pischelli questi i trapper i frapper i looper hanno detto pure io me voglio mettere il cappelletto de guccio c'è la cicalone de scola de botte perché voi dovete sapere che il primo video de scola de botte è uscito nel 2007 fine 2008 già c'è stavano i video del butta fuori che mo li ritrovate datati 2013 ma coi commenti de molti anni prima perché li dovetti bloccare mi ruppero le palle praticamente e scuola de botte iniziò subito a fare tendenza diventai subito influencer cicalone cappelletto de guccio modi di dire colpo sotto colpo sopra scureggioni ciccioni maledetti e tutti quanti i gravmachi arrivarono di lì a poco perché c'erano tutte le varie elezioni del gravmago e voi direte ma che c'entra il cappelletto di gucci con i gravmachi i gravmachi non possono mettere il cappelletto di guccio perché se il gravmachi mettesse il cappelletto di guccio si autoannienterebbe detto questo spero di avervi chiarito la posizione sul cappelletto di guccio e spero che a questo punto ascettiate le mie sincere spiegazioni per rendere tutto più chiaro e trasparente il rapporto tra me e i miei abbonati i miei iscritti e vi ricordo di seguirmi su tutti i social instagram compreso perché su instagram e non solo su instagram ma anche sul sito viola troverete delle esclusive che qui non vi dico infatti molti che mi seguono sui vari social quando faccio delle citazioni qui le apprendono gli altri rimangono miscoli oi ma che ha detto cicalone scrivono pure i commenti che vuol dire ma che vuol dire vuol dire che sai le cose svegliate amico mio taglie per tutto il resto vi ricordo tutorial scureggiorial storie e quanto altro vi aspetto sempre qui sul canale iscrivetevi vi dovete iscrivere mancano gli iscritti qua e poi inoltre iscritti mettete la campanella perché quando esce il video dovete andare a vedere pure che il video fa schifo è un video di cicalone fa schifo ma lo vedo uguale tipo questo qui sto video qua avete perso solo tempo questa è una perdita di tempo sto video detto questo vi saluto a tutti ciao vi saluto a tutti ciao Grazie a tutti.